Amici carissimi, bentornati ad un nuovo episodio del ciclo di Catechesi dedicato all'Antico Testamento che stiamo cercando di passare in rassegna come meglio si può fare in un ciclo di Catechesi che vuole essere un po' divulgativo, appunto catechetico, evidentemente sintetico, perché fare un ciclo di Catechesi sull'Antico Testamento di alto livello, dettagliato e approfondito a parte che richiederebbe non si sa quanto tempo ma anche delle competenze che vanno un pochino anche al di là delle mie povere forze. Quindi stiamo procedendo un pochino nel nostro itinerario e siamo arrivati al successore di Elia, che abbiamo visto la volta scorsa appunto essere investito dal grande Elia prima del suo misterioso rapimento al cielo sul carro di fuoco. Il ciclo di Eliseo abbraccia dodici capitoli del secondo libro dei Re, dal secondo fino al tredicesimo incluso, e si articola in una serie di episodi che adesso presento con l'ausilio delle slides e poi andremo a leggere e a commentare in quanto possibile. Anzitutto una prima fascia di brani sono i cosiddetti miracoli di Eliseo. Il miracolo delle acque, la maledizione dei fanciulli insolenti, l'olio della vedova e anche per Eliseo, come già per Elia, una risurrezione, la risurrezione del figlio della sunammita. Ancora la pentola avverenata, la moltiplicazione dei pani, vedete che è un prequel di un evento ben più famoso, la guarigione di Naman il Siro, l'episodio forse più celebre, quello citato dal nostro Signore nel Nuovo Testamento, insieme a quello già visto la volta scorso della vedova di Saletta, e lascia perduta e ritrovata. Ci sono infine altri episodi di Eliseo. Anzitutto, molto avvincente, Eliseo che appare, degno successore di Elia, come il guerriero di Dio e come il profeta, e infine la morte di Eliseo e un piccolo miracolo postumo. Questo è il percorso che ci attende e tracciato il quale adesso dobbiamo semplicemente cambiare testo sovrimpresso e cominciare ad andare senza troppo tergiversare a prendere i brani libici per poterli vedere insieme. Guardate che switcho. Ok. Possiamo cominciare la lettura cominciando dal primo, quindi il miracolo delle acque 2.19.22, un brano molto breve. Vedete, la Bibbia di Gerusalemme, nella versione della CEI, proprio da qui parte il ciclo di Eliseo. Gli uomini della città dissero a Eliseo, ecco è bello soggiornare in questa città, come il mio signore può constatare, ma le acque sono cattive e la terra provoca aborti. Egli disse, prendetemi una scodella nuova e mettetevi del sale. Gli la portavano. Eliseo si ricorda alla sorgente delle acque e vi versò il sale dicendo, così dice il Signore, rendo sane queste acque, da esse non verranno più né morte né aborti. Le acque rimasero sane fino ad oggi, secondo la parola pronunciata da Eliseo. Ora, questo brano a me personalmente, quindi questa è una mia opinione personalissima, attenzione, fa pensare al rituale tradizionale, adesso credo che nel nuovo benedizionale non ci sia più, di produzione dell'acqua santa. Nella benedizione dell'acqua santa, chiamata anche acqua esorcizzata, c'era proprio questo rito, prima si benedice il sale, poi si benedice l'acqua e poi c'è l'infusione del sale nell'acqua, che è un passaggio obbligatorio, altrimenti non è acqua santa. Presumibilmente, ricordando anche le preghiere che si fanno nella benedizione del sale nell'infusione dell'acqua e poi la preghiera seguente, questo gesto potrebbe avere come ispirazione biblica questo episodio, perché le acque di fatti vengono sanate da Eliseo alla sorgente attraverso questo misterioso sale. Tenete presente che qui ci imbatteremo oggi in diversi episodi alquanto misteriosi. Poi, secondo episodio, l'inizio di Francesco di Solti, Eliseo sale a Betel, mentre gli andava per strada alcuni, uscirono dalla città alcuni ragazzetti che si burlarono di lui dicendo «Sali, calvo, sali!» Egli si voltò, li guardò e li maledisse nel nome del Signore. Qui sicuramente qualcuno si scandalizzerà, eh? Allora uscirono dalla foresta due orse che sbranarono 42 di quei bambini. Audite, audite! Di là egli andò al Monte Carmelo e quindi tornò a Samaria. Anche questo episodio che certamente già mi immagino i lettori contemporanei infarciti e impastati di tutta quanta la, chiamiamola, teologia misericordista che c'è oggi. Questi sono quei classici brani che mandano in tilt alcune persone. Allora, premesso che il Nuovo Testamento certamente determina un passaggio, no? Gesù dice, San Paolo scrive «Benedite, non maledite», no? Però qual è qui il punto che dobbiamo ritenere? Perché anche quei brani dell'Antico Testamento, che evidentemente vanno un pochino tarati perché risentono della logica dell'Antico Testamento, però l'insegnamento che danno rimane. Ed è che un uomo di Dio non può e non deve essere oggetto di beffe da parte di ragazzini maleducati. Vi dico che se oggi io potessi fare come l'Iseo, praticamente avrei un cimitero intorno, tanto per dire qualcosa, a parte che non ho nessuna voglia, capite bene quello che sto dicendo, no? Ma se si potesse, o peggio ancora, se si dovesse fare come l'Iseo, magari ci stanno le orsi qui a Sermonella, ci stanno tanti cinghiali, insomma, sarebbe successo un'ecatombe. Perché gli uomini di Dio non vanno beffati, ma vanno onorati e rispettati. Quindi, a prescindere dalle modalità concrete, quello che rimane è questo, beffarsi di un uomo di Dio specialmente da parte di insolenti ragazzini che dovrebbero, anzitutto, si educati, avere rispetto di una persona più grande e adulta, in quanto adulta, almeno questo che ha sempre segnato mia madre, e a maggior ragione quando quello è un uomo di Dio. Io, se vi potessi raccontare il repertorio di quello che vedo e di quello che sento, dei miei riguardi, anche da ragazzini maleducati e insolenti, penso che ci sarebbe un repertorio non indifferente, per cui io, certamente, comprendo un po' la fattispecie di cui si parla, anche se ovviamente capisco bene che siamo nel Nuovo Testamento, quindi il concetto rimane, è chiaro che le modalità subiscono una evidente variazione. Proseguiamo, poi eventualmente, giustamente durante la diretta, durante poi lo spazio degli interventi, se qualcuno vuole può farlo tranquillamente. L'olio della vedova, andiamo al capitolo 4, versetti 1 e 7. Facciamo un po' un jump. Una donna, una delle mogli dei figli dei profeti, gridò a Eliseo, mio marito, tuo servo è morto, tu sai che il tuo servo temeva il Signore. Ora è venuto il creditore per prendersi come schiavi i miei due bambini. Eliseo le disse, che cosa posso fare io per te? Dimmi che cosa hai in casa. Quella rispose, in casa la tua serva non ha altro che un urcio d'olio. Le disse, va fuori a chiedere vasi da tutti i tuoi vicini, vasi vuoti e non pochi. Poi entra in casa e chiudi la porta dietro a te e ai tuoi figli. Versa olio in tutti i tuoi vasi e i pieni metti di da parte. Si allontanò da lui e chiuse la porta dietro a te e ai tuoi figli. Questi le porgevano e le versavano. Quando i vasi furono pieni, disse al suo figlio, porgimi ancora un vaso. Le rispose, non ce ne sono più. L'olio c'è solo. Ella andò a riferire la cosa all'uomo di Dio che le disse, va, vendi l'olio e paga il tuo debito. Tuoi tuoi figli vivete con quanto ne resterà. Qui si manifesta ancora una volta, vedete anche qui la lezione data da questo episodio, è che Dio va in difesa dei deboli e dei piccoli. Sappiamo bene che nella saga scrittura le vedove sono sempre oggetto di predilezione da parte dell'Altissimo. E' chiaro che l'Altissimo ha sempre un occhio di riguardo verso i piccoli, verso coloro che non si possono difendere, verso coloro che non si possono proteggere da se stessi, perché sono certamente esposti in balia di tante possibili situazioni borderline come questa. Dio provvede e non lascia i piccoli timorati di Lui, evidentemente questa è una delle mogli dei figli dei profeti, quindi una delle mogli dei figli dei profeti, quindi una timorata di Dio, tu sai che il tuo servo temeva il Signore. Questo non è un particolare senza rilievo, perché il Signore manifesta la sua, come dire, gloria a difesa verso chi? Verso chi è timorato di Lui, non verso chi non lo è. Non è che chi non lo è, come dire, è dimenticato o abbandonato, ma non è oggetto di queste particolari cure da parte dell'Altissimo, per quanto possiamo dedurre dagli insegnamenti biblici. Poi c'è l'episodio della resurrezione della Sunammita. Lo vado a prendere, dai un po'. Un giorno l'Iseo passava per Sunem, dove c'era un'illustre donna che lo trattenne a mangiare. In seguito, tutte le volte che passava, si fermava a mangiare da lei. E lì ha disse al marito, io so che è un uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre da noi. Facciamo una piccola stanza superiore in muratura, mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia, un candeliere, così venendo da noi si potrà ritirare. Un giorno che passò di lì, si ritirò nella stanza superiore e si coricò. Egli disse a Gegzi, suo servo, chiama questa Sunammita. La chiamò e lei si presentò a lui. E l'Iseo disse al suo servo, dille, ecco, hai avuto per noi tutta questa premura, che possiamo fare per te? C'è forse bisogno di parlare in tuo favore, arrivò al comandante dell'esercito. E la rispose, io vivo tranquilla con il mio popolo. E l'Iseo replicò, che cosa si può fare per lei? Gegzi disse, purtroppo lei non ha un figlio, il suo marito è vecchio. E l'Iseo disse, chiamala. La chiamò ed ella si fermò sulla porta. Allora disse, l'anno prossimo, in questa stessa stagione, tu stringerai un figlio tra le tue braccia. E la rispose, no, mio Signore, uomo di Dio, non mentire con la tua serva. Ora, ora, la donna concepì e partorì un figlio nel tempo stabilito. In quel periodo dell'anno, come le aveva detto l'Iseo, il bambino crebbe e un giorno uscì per andare dal padre verso i meditori. E gli disse al suo padre, la mia testa, la mia testa. Il padre ordinò a un servo, portalo da sua madre. Questi lo prese e lo portò da sua madre. Il bambino si lette sulle ginocchia di lei fino a mezzogiorno e poi morì. E la salì a coricarlo sul letto dell'uomo di Dio, che chiuso la porta e uscì. Chiamò il marito e gli disse, mandami per favore uno dei servi o un asino, voglio correre dall'uomo di Dio e tornerò subito. Quello domandò, perché vuoi andare da lui oggi? Non è il Noviluno nel sabato, ma lei dispose a Dio. Sello all'asino e disse al proprio servo, conducimi, camminami, cammina, non trattenermi nel cavalcare, a meno che non te lo ordini io. Si incamminò, giunse dall'uomo di Dio sul monte Carmelo. Vedete che Iserostano è lo stesso monte, caro Adelia. Quando l'uomo di Dio lo vide da lontano, disse a Gezi, suo servo, eccola su una mita. Su, corri l'incontro e domandale, stai bene? Tuo marito sta bene, tuo figlio sta bene, quella di sposo è bene. Giunta presso l'uomo di Dio sul monte, gli afferrò ai piedi. Gezi si avvicinò per tirarle indietro, ma l'uomo di Dio disse, lasciala stare, perché il suo animo è amareggiato. E il Signore venne nascosto il motivo, non me l'ha rivelato. E la disse, avevo forse domandato io un figlio al mio Signore, non ti dissi forse non mi ingannare? Ediseo disse a Gezi, cingi i tuoi fianchi, prendi in mano il mio bastone e parti. Se incontrerai qualcuno, non salutarlo, se qualcuno ti saluta, non rispondermi. Metterai il mio bastone sulla faccia del ragazzo. La madre del ragazzo disse, per la vita del Signore e per la tua stessa vita, non ti lascerò. Allora Ediseo alzò e la seguì. Gezi li aveva preceduti, aveva posto il bastone sulla faccia del ragazzo, ma non c'era stata voce nella reazione. Egli tornò incontro ad Ediseo e gli riferì. Il ragazzo non si è svegliato. Ediseo entrò in casa, il ragazzo era morto, coricato sul letto. Egli entrò, chiuse la porta dietro a loro due e pregò al Signore. Quindi salì e si coricò sul bambino, pose la bocca sulla bocca di lui, gli occhi sugli occhi di lui, le mani sulle mani di lui, si curvò su di lui e il corpo del bambino riprese calore. Quindi desistette e si mise a camminare quella per la casa. Poi salì e si curvò su di lui. Il ragazzo starnuti sette volte e poi aprì gli occhi. Ediseo chiamò Gezi, gli disse, chiama questa sunamita. La chiamò e quando raggiunse il vicino le disse, prendi tuo figlio. Quello entrò, cadde ai piedi di lui, si prostrò a terra, prese il figlio e uscì. Un episodio molto molto bello anche questo, no? Allora, insegnamenti. Numero uno, cosa dice Gesù nel Vangelo? Chi accoglie il profeta come profeta avrà la ricompensa dei profeti. Questa donna, sposata ma priva di figli, riconosce in Eiseo l'uomo di Dio e gli prepara una dimora per le sue soste durante le peregrinazioni. Già questo gli attira le grazie del Signore e grazia tanto grande da concepire un figlio, nonostante le rastele. Quindi, insegnamento, le cose fatte agli uomini di Dio, notate sempre come viene chiamato Eiseo, Ish Elohim, uomo di Dio, ritornano con benedizioni, che se le potessimo vedere non crederemmo ai nostri occhi, ma Gesù l'ha detto nel Vangelo, chiunque vi darà da bere anche solo un bicchiere d'acqua perché siete di Cristo, in verità vi dico, non perderà la sua ricompensa. Quindi, vedete la discrepanza che c'è tra la maledizione dei bambini insolenti che lo prendono in giro e la ricompensa invece è riservata a chi l'accoglie come uomo di Dio e lo tratta con il dovuto onore, anche andando al di là, quindi facendo una cosa che non era assolutamente tenuta a fare. E gli aria sta benedizione, non solo poi, le disgrazie della vita determinano la morte del bambino e c'è il miracolo della risurrezione. Qui penso che un lettore attento avrà notato un euro a quattro di mani, ricordate quando nel Vangelo Gesù manda i suoi a scacciare le demoni, diceva noi ci siamo riusciti e deve andare Gesù perché a scacciare diceva come questo, aveva detto al servo mettigli il bastone sulla sua faccia, ma non c'era riuscito a riuscitarlo, nonostante la potenza del bastone di Elisio. Ecco, probabilmente per un difetto di fede di questo servitore. Ma poi anche nell'operazione, diciamo così, della risurrezione, vi ricordate quante volte Gesù anche quando faceva i miracoli, adoperava dei gesti molto molto concreti, non tocca con la lingua la lingua del muto e mette il fango negli occhi del cieco nato. Tutte queste operazioni che poi che Eliseo compie per attuare anche evidentemente in nome del Signore il miracolo sono certamente significative di che cosa? Sono dei prodromi, anche quello che ha fatto Gesù lo è, dell'economia sacramentale, cioè noi siamo salvati, la nostra anima è salvati, i benefici ci arrivano attraverso sacramenti e sacramentani che oggi si usano poco, sia gli uni che gli altri. Proprio il contatto, cioè qui questo posa la bocca sulla bocca di lui, gli occhi sugli occhi, le mani sulle mani, si curva su di lui, lo tocca, c'è proprio il contatto. Il contatto è una cosa importantissima, guardate che questo vale anche per le cose del nemico, perché ci sono dei casi di possessione, non voglio farlo, che dipendono dal fatto che qualche criminale di questi maleficia un cibo e uno se lo mangia, si ritrova posseduto. Oppure il maleficio è un talismano, glielo fa mettere addosso e quello si ritrova posseduto. Ora noi abbiamo i contro sacramenti e sacramentali, perché noi mangiamo il corpo di Cristo, ma chi lo mangia con fede? Se non mangiate la mia carne non bevete il suo sangue. noi i talismani noi abbiamo se lo faccio tutto io c'è addosso abbiamo la medaglia miracolosa, la medaglia di San Benedetto, il rosario, il crocifisso, portati con fede e con amore queste sono cose importantissime. Capite? e ci fanno comprendere anche questi gesti di erisica, l'economia si chiama così sacramentale. Dio salva attraverso dei gesti sensibili, certamente che potrebbe tranquillamente operare prescindendone, Dio non ha bisogno di queste cose, ma ha voluto che l'economia salvifica si svolgesse in questo modo. Quindi nessuno di noi può pensare di fare a meno di sacramenti e sacramentali. fate benedire più cose possibili, la macchina benedetta, le persone benedette, le case benedette, gli oggetti sacri da portare addosso, i quadri, le statue, le immagini. In tempo si poteva benedire tutto, io benedico ogni cosa che compro, il telefono, il telefonino, il computer, i vestiti, appena arriva immediatamente benedetta, seduta stante, usare tanto l'acqua santa, usare l'olio, il sale, dobbiamo essere belli che blindati. Voi non avete idea di quante situazioni persone proprio orribili, sento parlare in quanto sacerdote, ogni volta che sento parlare di queste cose dico, ma penso, non lo dico, se questa persona si fosse blindata prima che accadessero certe cose, di certo non sarebbero potute accadere, poi un conto è pensarlo, un conto è dirlo, perché se lo dici in certe situazioni fai cadere nella depressione o nella disperazione delle persone, questo non bisogna farlo, però anche se non bisogna farlo il fatto è vero, quindi trovandomi adesso a parlare in maniera generica, quindi senza coinvolgere nessuno, mi sento di evidenziarlo. Abbiamo poi l'episodio della pentola avvelenata e di sera tornano a Galgala, nella regione c'era carestia, mentre i figli dei profeti stavano su lui davanti a lui e gli disse al suo servo metti la pentola grande e cuoci una minestra per i figli dei profeti, uno di essi andò in campagna per cogliere erbe selvatiche e trovò una specie di vite selvatiche, da essa colse zucche agresse e se ne riempì il mantello, ritornò e gettò i frutti a pezzi nella pentola della minestra non sapendo cosa fossero. Si versò da mangiare agli uomini che appena assaggiata la minestra chiedarono nella pentola c'è la morte uomo di Dio e non ne potevano mangiare. Allora Eliseo ordinò andate a prendere della farina versatela nella pentola disse danne da mangiare a questa gente e non c'era più nulla di cattivo nella pentola. Questo è un altro miracolo un gesto oltremodo misterioso però la farina vedete anche qui dentro sta pentola ce l'hanno visto presumibilmente queste erano sostanze avvelenate la come dire la 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 neutralizzazione meglio degli effetti del veleno avviene di nuovo attraverso un gesto concreto un gesto che fa certamente pensare a quelli che noi adesso nell'economia neotestamentale chiamiamo i sacramentali questa misteriosa farina, vi ho detto che ci sono tanti episodi pregni di mistero, quindi non mi andate a fare domande troppo approfondite perché io non sono in grado di penetrare fino in fondo questi misteri balbettando come sempre facciamo qualche piccola cosa adesso andiamo a vedere il prequel della moltiplicazione dei pani gesto molto significativo da balza ad Isabel un uomo che portò pane di primizia all'uomo di Dio venti panni d'orso e grano novello che aveva nella bisaccia Eliseo disse danno da mangiare alla gente ma il suo servitore disse come posso mettere questo davanti a cento persone e gli replicò danno da mangiare alla gente poiché così dice il Signore ne mangeranno e ne faranno avanzare lo pose davanti a quelli che mangiarono e ne fecero avanzare secondo la parola del Signore qui il commento mi sembra quasi pletorico si nota una enorme similitudine alla moltiplicazione dei pani e dei pesci no? quindi questo pane che miracolosamente non diminuisce si sfavano tutti e avanza quindi tutti quanti questi gesti fanno comprendere quanto Dio stava con Eliseo quindi gli uomini di Dio sono uomini di Dio perché appunto Dio è con loro e si vede attraverso questi segni ora la famosa guarigione di Naaman il Siro un episodio molto molto lungo anche qui Naaman comandante dell'esercito del re di Aram era un personaggio autorevole presso il suo Signore stimato poiché per il suo mezzo il Signore aveva concesso la salvezza di Aramei ma quest'uomo Brode era lebroso era lebroso ora Bandi Aramei avevano condotto via prigionieri della terra di Salera una ragazza che era finita al servizio della moglie di Naaman lei disse alla padrona oh se il mio Signore potesse presentarsi al profeta che è a Samaria certo lo libererebbe dalla sua lebra sta parlando ovviamente di Eliseo Naaman andò a riferire al suo Signore la ragazza che proviene dalla terra di Salera ha detto così e così il re di Aramei gli disse se va pure io stesso invierò una lettera per Israele parti dunque prendendo 10 talento d'argento 6.000 sicri d'oro e 10 mute di Ami portò la lettera al re di Israele nella quale si diceva bene insieme con questa lettera ho mandato da te Naaman il mio ministro perché tu lo liberi dalla sua lebra letta la lettera il re di Israele si stracciò le vesti dicendo sono forse Dio per dare la morte o la vita perché costrui il mio ordine di liberare un uomo dalla sua lebra riconoscete vedete che evidentemente c'è la testa contro di me ma quando Eliseo uomo di Dio seppe che il re di Israele si era stracciato le vesti mandò a dire perché ti sei stracciato le vesti quell'uomo venga da me e saprà che c'è un profeta in Israele Naaman arrivò con i suoi cavalli e con il suo carri si fermò alla porta della casa di Eliseo Eliseo gli mandò un messaggero per dirgli va bagnati sette volte bagno sette volte nel Giordano su cui avrebbe amministrato il battesimo San Giovanni il Battista quanti sacramentali abbiamo perdonatemi se interloquisco di questo genere i due più famosi che conosco le acque di Lourdes e le acque di Colle Valenza dove si fa il bagno e che bagni se uno sente la storia di Madre Speranza il diavolo ha fatto di tutto e di più per impedire che fosse costruito quel benedetto pozzo di Colle Valenza da cui sgorga quell'acqua miracolosa di nuovo attraverso un segno quello chiaramente è un sacramentale quello lì tra l'altro l'acqua è stata anche un sacramento il sacramento più importante che esiste che è il sacramento del battesimo no? penso che molti conoscano l'episodio che qui il re si avvelenna una manna si sdegna dice ma io pensavo questo viene fuori invocherà il nome del suo Dio agiterà la sua mano toglierà la lebra e comincia a dire ma forse che Labana e il Parpar i fiumi di Damasco non sono migliori di tutte le acque di Israele non potrei bagliarmi in quelle per purificarmi si voltò e se ne partì a tirato allora vedete gli si avvicinarono i suoi servi e gli dissero ma padre mio se il profeta ti avesse ordinato una cosa non l'avresti forse seguita tanto più ora che ti ha detto bagniti sarai purificato egli allora scese si immerse nel giudano sette volte secondo la parola dell'uomo di Dio e il suo corpo ridifende come il corpo di un ragazzo egli era purificato tornò con tutto il seguito dall'uomo di Dio entrò e stessi davanti a lui dicendo ecco ora so che non c'è Dio su tutta la terra se non in Israele adesso c'è il dono del tuo servo ma poi Eliseo lo rifiuta anche qui adesso andiamo oltre perché non c'è troppo tempo di soffermarsi però anche qui le sette acque le sette immersioni nel Giordano tra l'altro il numero sette che è un numero oltremodo importantissimo no? ora l'acqua del Giordano scusate le acque di Colle Valenze di Lourdes andiamo una volta tanto ma capite quanto sarà importante segnarsi spesso con l'acqua santa o dico per me e per i miei confratelli quanto sarà importante ricominciare a fare durante la liturgia e lo faccio praticamente tutte le domeniche il rito dell'asperges che sostituisce l'atto penitenziale non sono giochini questi qua ma quanto anche sarà importante sapete che l'acqua si usa praticamente in quasi tutte le le benedizioni voi sapete quanta gente io sono andato qui i primi 4-5 anni a benedire tutte quante le case prima del del cosiddetto lockdown ma voi sapete che quanta gente mi ha detto no grazie non ce n'ho bisogno rifiutare un uomo di Dio che da parte di Dio ma non lo dico perché sono io cioè se mi raccontassero questa cosa di un'altra persona pensate che io mi vado a offendere in quanto persona io non ridisco quando vedo queste cose perché dico guarda dove siamo arrivati cioè anche qui no dice vedete io si serve di Eliseo se ti avessi detto di fare chissà che ti avessi detto di fare un'altra bagnata nel Giordano un prete che ti viene a casa non devi fare nient'altro di capire la porta io non ho mai chiesto tra l'altro un centesimo a nessuno quindi se c'è paura che ti chiedo l'offerta fate passare la paura perché io l'offerta non te la chiedo non la chiedo mai a nessuno in questo guardate che mi testimone l'altissimo raccomando di lasciare le offerte soltanto quando mi chiedono celebrazioni di messe che io devo girare a confratelli che possono celebrare le messe appunto perché non avendo come me incarichi essendo poveri con le offerte delle messe ci campano e io non posso chiedere a un confratello che ci campa di celebrare una messa per carità verso una persona perché quello ci campa posso farlo io eventualmente ma non lui quindi notiamo l'importanza anche di questi di questi di questi segni no? ora andiamo al capitolo dove sta 6 e andiamo a vedere l'ascia perduta i figli dei profeti dissero a Elisei ecco a Eliseo ecco l'ambiente in cui abbiamo presto di te troppo stretto per noi andiamo fino al Giordano prendiamogli una trave ciascuno e costruiamoci lì un locale dove abitare e gli rispose andate uno disse degno di venire anche tu con i tuoi serbi e gli rispose verrò e andò con loro giunti al Giordano cominciarono a tagliare gli alberi ora mentre uno abbatteva un tronco il ferro della scura e gli cadde nell'acqua e gli gridò oh mio signore era stato preso in prestito l'uomo di Dio domandò dove è caduto gli mostrò il posto Eliseo allora tagliò un legno e lo gettò in quel punto e il ferro venne a galla disse tiratelo su quello stese la mano e lo prese vedete questo è un altro miracolo oltremodo vittoresco però vedete no c'è sempre in causa la virtù cardinale della giustizia perché quello l'aveva preso in prestito quindi doveva restituirlo e se non l'avesse restituito ci sarebbero stati dei problemi è una disgrazia figli dei profeti quindi l'uomo di Dio interviene per risolvere questa disgrazia ora andiamo a vedere grazie a Dio ce l'abbiamo fatta abbastanza bene Eliseo Guerriero andiamo a vedere il successore di Elia che fa un po' di guerre sante diciamo così come il suo predecessore il re di Arama combatteva contro Israele e in un consiglio con i suoi ufficiali disse che si sarebbe accampati in un certo luogo l'uomo di Dio mandò a dire al re di Israele guardati dal passare per quel luogo perché là stanno scendendo gli Aramei voi pensate che gli da retta il re di Israele fece spedizione nel luogo indicato dall'uomo di Dio riguardo al quale egli l'aveva munito e là se ne stette in guardia non una né due volte soltanto molto turbato in corso per questo fatto il re di Aram convocò i suoi ufficiali e disse loro non mi potete indicare chi dei nostri è a favore del re di Israele? uno degli ufficiali rispose no o regno signore ma Eliseo proprietà di Israele riferisce ad Israele le parole che tu dici nella tua camera da letto bello eh qui gli disse andate a scoprire dov'è costui io lo manderò a prendere gli fu riferito ecco sta a Dotan egli mandò là cavalli carri e una schiera consistente vi giunsero di notte e circondarono la città il servitore dell'uomo di Dio si alzò e presto uscì ecco una schiera circondava la città con cavalli e carri il suo servo gli disse oi me mio signore come lo faremo? egli rispose non temere perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro Eliseo pregò così signore apri i suoi occhi perché veda il signore apri gli occhi del servo che vide ecco il monte era pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno a Eliseo poi scesero verso di lui ed Eliseo pregò il signore dicendo colpisci questa gente di cecità e il signore li colpì di cecità secondo la parola di Eliseo disse loro Eliseo non è questa la strada non è questa la città seguitemi e io vi condurrò dall'uomo che cercate egli li condusse a Samaria quando entrarono in Samaria Eliseo disse signore apri gli occhi di costoro perché vedano il signore apri i loro occhi ed essi videro erano in mezzo a Samaria quando li vide il re di Israele disse a Eliseo li devo colpire padre mio egli rispose non colpire sei forse solito colpire uno che hai fatto prigioniere con la tua spada e con il tuo arco piuttosto metti davanti al loro pane e acqua mangino e bevano poi se ne vadano dal loro signore si preparò per loro un grande pranzo dopo che avevano mangiato e bevuto li congedò ed essi si erandarono dal loro signore le bande ramee non penetrarono più nella terra di Israele ha capito questo episodio no? c'era una guerra e questo è il contesto in cui Eliseo opera continua tra il re di Israele e il re di Aram per un miracolo il signore concedeva ad Eliseo di conoscere le trame del re di Aram e di svelare il re di Israele in modo tale che tutte cante le come dire le operazioni di tattica militare che questo ordiva erano inutili perché il re di Israele le sapeva le preveniva e quindi non poteva conquistarlo gli dicono che è colpa di Eliseo e lui manda a fargli la festa come si dice il problema è che fatta la festa a protezione di riserva a mezzo esercito celeste come abbiamo visto qui e praticamente viene risolta la questione tra l'altro questo è veramente un fatto edificante perché è un prodotto del Nuovo Testamento in maniera senza che si fanno troppo male nel senso che li rende ciechi dopodiché li porta a Samaria cioè li porta nella casa del loro nemico avrebbe potuto ucciderli tutti il re di Israele però chiede il permesso a Eliseo dice no tu che gli fai con i tuoi prigionieri li ammazzi no basta che capiscano che sono stati messi nelle mani tue li risparmia e sono fine dell'incursione era me nella terra di Israele grazie a questo altro miracolo l'ultimo episodio che andiamo a vedere molto edificante esaltando il capitolo settimo è Eliseo profeta 8 7 17 chiaramente ce ne sono anche altri però io ho fatto delle scelte evidentemente anche nella presentazione di questa figura biblica che ritengo importanti per avere un quadro esaustivo e comprendere anche un po' la missione di questo uomo di Dio e il messaggio che ci lascia in alcuni passaggi salienti della sua esistenza Eliseo andò a Damasco a Benadam del re di Aram che era ammalato fu riferito l'uomo di Dio vedete sempre ish Elohim è venuto fin qui il re disse a Cazzael prendi con te un dono e vai incontro all'uomo di Dio e per suo mezzo interroga il Signore dicendo guarirò da questa malattia Cazzael e lui andò incontro prendendo con sé il regalo tutte le cose migliori di Damasco un carico di 40 camere arrivato stette davanti a lui gli disse tuo figlio benadadre di Aram gli hanno dato tutti con la domanda guarirò da questa malattia e Eliseo gli disse va a dirgli guarirai di sicuro ma il Signore mi ha mostrato che egli certamente morirà poi immobilizzò il suo volto e reggirò il suo sguardo fino all'estremo e alla fine l'uomo di Dio si mise a piangere Cazzael disse per quale motivo il mio Signore piange e gli rispose perché so quanto male farei agli israeliti brucerai le loro fortezze ucciderai di spade i loro giovani sfracellerai i loro bambini sventrerai le loro donne incinte Cazzael disse che cos'è il tuo servo questo cane per poter fare una cosa così enorme e Eliseo rispose il Signore mi ha mostrato che tu sarai re di Aram quello partì da Eliseo ritornato al suo padrone che gli domandò che cosa ti ha detto Eliseo e rispose mi ha detto guarirei di sicuro il giorno dopo costrui preso una copetta l'immersi nell'acqua e poi la stese sulla faccia del re che morì al suo posto divenne re Cazzael nell'anno quinto di Ioram figlio di Acab re di Israele divenne re Ioan figlio di Giosop eccetera anche qui Eliseo mostra il dono della profezia cioè la conoscenza degli eventi futuri questo re sarebbe guarito ma profetizza anche l'omicidio di Cazzael per prendere il posto e tutto quanto il male che avrebbe portato al suo popolo questo assassino e quindi usurpatore di troni regali diamo infine la morte di Eliseo 13 capitolo 13 versetti 14 20 quando Eliseo si ammalò della malattia di Gomorì Ioas l'Israele scese da lui scoppiò in pianto in sua presenza dicendo padre mio padre mio Carlo di Israele e i suoi destrieri Eliseo gli disse va a prendere arco e frecce ed egli prese arco e frecce per lui disse ancora Eliseo al re di Israele metti la tua mano sull'arco dopo che egli ebbe messo la sua mano sull'arco Eliseo mi si è preso le mani sulle mani del re quindi disse apri la finestra verso oriente dopo che egli ebbe aperta la finestra Eliseo disse tira Ioastirò Eliseo disse freccia vittoriosa del Signore freccia vittoriosa contro Aram tu colpirai Aram ad Afec sino a finirla Eliseo disse prendi le frecce e quando quegli le ebbe prese disse a l'Israele colpisci la terra ed egli la percosse tre volte e poi si fermò l'uomo di Dio si indignò contro di lui e disse colpendo cinque o sei volte avresti colpito Aram sino a finirlo ora invece sconfiggerai Aram solo tre volte Eliseo morì e lo seppellivano e l'anno successivo alcune bande di Moab penetrarono nella terra attenzione mentre seppellivano un uomo alcuni visto un gruppo di razziatori gettarono quell'uomo sul sepolcro di Eliseo e se ne andarono l'uomo venuto a contatto con le ossa di Eliseo riacquistò la vita e si alzò sui suoi piedi fine a compimento delle profezie Kazael re di Aram oppresse gli israeliti per tutti i giorni di Yoakaz quindi l'episodio della morte di Eliseo ecco anzitutto ecco l'esecuzione non perfetta degli ordini dell'uomo di Dio qua già questo dovrebbe farci ripensare a qualcosa che già conosciamo ricordiamo o devo dire abbiamo già visto questa cosa gli ordini che vengono dati dall'Altissimo vanno eseguiti bene e con perfezione ti ha detto lancia le frecce lancia ste frecce non dire non lanciate tre adesso basta non può essere tu a dirlo ricordiamo la fine che fece Saul che fine ha fatto Saul una pessima fine per non aver fatto bene ed esattamente quello che il Signore gli aveva detto di fare quindi attenzione quando noi incontriamo un uomo di Dio così concludiamo questa breve presentazione procuriamo di fare molta attenzione di ascoltare di mettere in pratica fedelmente le cose che l'uomo di Dio ci dice perché se non lo facciamo le cose non andranno amare all'uomo di Dio ma sarà peggio per noi se invece le farai bene e alla lettera avrai grazie e benedizioni da parte dell'Altissimo ecco tutto sta amici cari preghiamo sempre al Signore che ci conceda la grazia di riconoscere i veri uomini di Dio voi sapete che da un punto di vista oggettivo per quanto riguarda la nostra fede divina e cattolica ogni ministro sacro è oggettivamente un uomo di Dio poi però bisogna vedere se lo è anche soggettivamente perché per esserlo anche soggettivamente deve comportarsi agire operare pregare come un uomo di Dio farebbe ho detto altre volte concludo non voglio fare cicero prodomo suo né certamente portare acqua al mio mulino presentarmi Dio non voglia per carità come esempio io sono solo un povero e un umile speriamo che ci prova più che servitore a servire un po' al Signore servitore mi sembra che un titolo già troppo elevato però per esempio per quanto riguardano i ministri ciò che esprime il nostro essere uomini di Dio è l'abito sacro non il clergyman ma la veste danare il clergyman attenzione che è consentito nell'attuale disciplina ecclesiastica quindi magari tutti i predi andassero in giro vestiti almeno col clergyman perché almeno c'è un segno esterno di riconoscimento forte che è un po' più significativo delle crocette che si mettono al petto o al collo quelli che in questo andando contro l'attuale disciplina ecclesiastica perché questo non è lecito vanno in giro vestiti in borghese e come i laici però l'abito sacro è quello che esprime l'essere uomo di Dio perché appunto è un abito sacro esprime con la sua fattezza e rimanda agli abiti che si usano in cielo che sono tutte quante tuniche lunghe fino ai piedi certamente non basta indossare l'abito sacro per fare di te l'uomo di Dio no però l'abito sacro in qualche modo lo manifesta e vi assicuro che le persone colgono molto queste cose anche adesso e certo che non bastano i segni esterni per per fare per fare che ci sia la realtà però i segni esterni la realtà la manifestano cioè se tu c'hai intenzione di vivere il tuo ministero appunto caro confratello come uomo di Dio non basta che porterai la veste talare certamente ma quello è sicuramente un passaggio fondamentale perché solo l'indossarla e il metterla manifesterà a te stesso oltre che agli altri che almeno ci vuoi provare ad essere anche a livello soggettivo quindi ad adeguare quel dono immenso che è assolutamente non perfettamente eguagliabile che riceveva dal Signore quando ti ha conferito il potere di agire per suo conto e in suo nome allora amici direi che possiamo fermarci e che Dio vi benedica e la Madonna sempre e ovunque vi protegga grazie a tutti